Ciao, sono Francesco Riga e lavoro all'ISPRA, che è l'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed è il partner coordinatore del progetto Life Perdix, finalizzato alla conservazione della reintroduzione di natura della starna italica. È importante questo progetto perché la conservazione della biodiversità si attua non soltanto con la conservazione delle singole specie, ma anche preservando la variabilità genetica all'interno delle specie. Uno dei compiti dell'Istituto dell'ISPRA è proprio quello di selezionare e conservare le sequenze storiche, sequenze genetiche storiche della starna italica. Inoltre la starna è importante non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche culturale, perché è una specie che ha colonizzato l'Europa seguendo l'agricoltura, è infatti una specie legata a quelle che oggi si chiamano gli agroecosistemi. Quindi la protezione della starna vuol dire anche proteggere l'ambiente tipico della starna e il paesaggio tipico agricolo italiano.